Musica, arte e solidarietà. Da un lato l'esibizione inedita e prestigiosa di due grandi artisti, dall'altro la valorizzazione dei piccoli borghi, orgoglio dell'Italia. Ecco Savignano Irpino, nel cuore della Valle del Cervaro. Le immagini parlano da sole e regalano davvero una gran bella emozione. Stiamo cercando di unire arte e musica. Cercheremo di fare delle performance sparse un po' nel mondo, più avanti lo faremo a New York, a Londra, in Giappone. Savignano Irpino è meraviglioso e questo posto è formidabile. I giovani del paese sono magnifici. Nessuno si aspettava la presenza di questo artista internazionale ed è gratificante per noi, per la nostra comunità. L'opera realizzata da Roberto Radici verrà messa in vendita e il ricavato per volere dei due artisti donato in beneficenza. Chicca della serata, la presenza della vincitrice del Grande Fratello VIP, edizione spagnola 2005. In Savignano di gastronomia è incredibile. Tutto è bello, mi piace la gente, il territorio, il castello, mi ha encantato tutto. Mi auguro che questo quadro, questa opera d'arte venga venduta, venga acquistata per poter poi dare quello che è il ricavato della vendita in beneficenza.